buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo no vabbè sta pieno storia in playback anche perché tra occhio peco le voce c'è solo un rimedio lo schiso senti come schissetta dai dai schisa vai lunedì voglio un buongiorno da tutti i miei coccodrilli quindi commentate tutti questa storia chi è sveglio chi è bello chi è più impante chi è pronto chi sta pieno chi sta bene chi sta male chi c'è il sole chi c'è le nuove basta devo guardare che devo guardare i canci del reggiseno perché che ti hai fatto stanotte c'è la cosa sotto la pezzettina che avete fatto questo crocifisso ormai non è che quello sta diventando una rock star fa tutte queste cose che stai a fare le porcate che gli hai fatto la nonna che gli hai fatto la nonna c'è tutto il reggiseno spostato c'è il reggiseno spostato che cazzo ne so io ma buongiorno 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 sto cazzo oh via io vò dove vò a posto adesso che bella musica sto locale buongiorno 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 qui siamo andati al supermercato per fortuna che me ti porti tu guarda avanzi è bella è bella è bella è una moscaate meertà tronso ci cercano tutti mani vi farò una bella sorpresa vedrai 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 ce ne fe sempre che ieri sera siamo stati a Cesare eh lo so lo so ma questo questo vi meritate sei caricolo vai 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 abbiamo tutti la tua fissa quale passo qual è la tua fissa qual è la tua fissa dai ecco il nuovo balletto passo passo nuovo c'è anche i coccodrilli eh ma solo quella striscina i capelli viola non va bene e deve fare tutto tutto e tutto quanto ha la testa viola ma fa vedere dove li devi fare per bene in tutto anche di qui sulla fronte eh ma te ce la chiesa eh ma sul cincillato a cavolo il cincillato come tocca fa senti il cincillato cominci a rompere i coccoli fa senti il cincillato me lo gli farei fammi senti il cincillato smettela io gli farei una permanente tutta che cavaliere eh sei carico? eccola in Sudafrica perché siete meravigliosi siamo al quarto posto grazie grazie mille andiamo a pelo anche in Sudafrica a pelo venire a pranzo a casa nostra con la cucina di nonna Maria eh fai swipe acquista la nostra canzone su iTunes e mandala mail a stapieno carlettolife chiocciolagmail.com e frattempo nonno fa ossino sta parecchiando perché poi quando ha parecchia voi venite qua possiamo fare anche così capito? ah fate swipe fate swipe fate swipe 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 c'è la cazzetta come un buccione di qui di qua ma di qua o di là? oh te la gi' affanculo incredibile te la gi' affanculo sempre affanculo dov'è? ah ecco è uscito il video su YouTube fate swipe così con il litino che di quando ha colorato i capelli al nonno ma è successa una cosa durante il video pazzesca fate swipe o no la coloriamo i capelli debito di coglione se tutto dice bollino prova a dire a bestemmia e poi dire fermi che fedeli che c'è messo a posto perché che ha fatto? come se in casa dice una bestemmia però non va bene ma non la direi che non la vorrei di qua ma che stai facendo tu? ho cavato il vino chi scava? tu? chi scava? Lia? chi? chi? la lavatrice chi la vota? chi? tu? Lia? io? chi? c'è ma l'olio chi? 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 il sale? chi scava? io? tutto lui tutto lui tutto lui c'è un cazzo da fare se no si grattano i panni ma ora forse di grattarli e mi viene a te che c'è che c'è che sta ma guarda la televisione ma tu guarda la televisione la figa guardo no la figa guarda ma ce la guarda ma ce la guarda com'è? ma ce la guarda non la guarda quella? no perché? e non c'è vero che guarda ma ha detto che non c'è vero oh ha detto che non c'è vero che la vede ma la figa la becca è nera si chiamati ah forse è uno dei più bei dissing di sé sempre che fa? sto a comoda i pantaloni la chi? la nonno guardate è una donna veramente come quelle di una volta a comoda i pantaloni al nonno eh 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 è l'abbia ma certo taglia luce luce taglia ma sta cosa del papa che ha bestemmiato è vero? va via va via ma è vero o no? non di ste cose cazzate di lì sempre fai buono la fine del mese Mariano sta pregando era il mese di Mariano questo la messa era era il mese di Mariano era il mese di Fashion Block era il mese di Mariano già speravo che prega anche lui stronzo è successo volevo darvi i yogurt io che ne voglio e li ha e pino e ti fa buono e qua ma non ne voglio eh ma assaggiano un po' di yogurt no perché? perché ne voglio pira un po' di yogurt vattene che ti tiro ma mamma mia oggi è indiavolito pira un po' di yogurt no? eh ora sta zitto metti la mettono in te la bolla vuoi o no lo yogurt? mettono a vedere dopo piacchiere eh discorri eh ma pira un po' di yogurt no? vedete? eh dopo e quel che fai ma sto un caccio andando così così direi ma ti trema il braccio che cazzo mi teneva? no no mi farai il bagnetto per primo ah 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 quale cane farai il bagno per primo ah 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 scappano tutti via ma lei li bracca incredibile sono venuto a fare un giretto e ci tenevo a portarvi anche voi virtualmente qui è la chiesina dove i miei nonni si sono sposati 63 anni fa e a me dà una carica un'energia pazzesca molto passare del tempo qua insieme a questo fraticello guardate che bello ah che bello raga oh no ma perché? ma come è un improvviso a urlare vicino ma urla ma perché sono cantante ma tu sei un coglione ah non c'è non c'è non c'è non c'è io sono cantante ormai ehi guardate di coglione io sono cantante guardate un po' il crestino guarda mannaggia il bagno ma è possibile che io ma sono cantante questo mi fa bestemmiato tutte le cose che mi fai mi fai bestemmiato ma sono cantante ma tu sei un coglione ma mi fai bestemmiato ma come mi fai bestemmiato ma come mi fai bestemmiato ma come si sta truppando intorno sto guardando qui ma io sono cantante sono cantante sono cantante io guarda che c'è di qui fermate che le salsicce io le salsicce le lancio adesso perché sono cantante ma quello come fare capito non c'è il bagno io sono cantante non ho capito io sono cantante ma vedi che sono cantante guarda fattele che stai smisticato che stai smisticato c'è ragione io sono cantante io sono cantante no 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 che ne so sta stranato lì sopra se funziona è funziona posso cantare ma vai di là ma tu vuoi più a quella che non funziona ma che ne sa che funziona perché provarla io vorrei cantare io vorrei cantare fammi cantare un po' io sono cantante vedi no porca no 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 io la scopo allora levate ma non mi coglione sono cantante ma là ma non mi coglione sono cantante che te la fa vedere che te la fa vedere ma va mi toccare una puccina è vecchio io fai male è vecchio è bevole io scappo se me ne vuoi no no le c***e no 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 non mi coglione non mi coglione vuoi tanta noie oh vuole toccare una puccina la trovar guarda con io no quello no a me piace o no guardate padre spio come guarda oggi insalatina attenzione scarpetta con il dito arzughe o no o no io le si a me sei certa di voi arzughe o no sì se me è così non c'era bisogno che io le capate va bene capate tu fave chi è l'è? chi è l'è? questa chi è? uno che è l'è? un c***o e chi è l'è? non c'era così fatto bene fave se Federica tu me è fia va via che mi porta il figo ma perché? va via che l'ascolta? no le preghiere va via fave che l'ascolti le preghiere? che l'ascolti? le c***o non le fia come fa ma che la fia? va via che la fia? niente va via non le fai il figlio ma via vedendo le vostre mail del contest a pranzo a casa mia fate swipe ancora siete in tempo acquistate il brano su iTunes e avete l'opportunità di pranzare qui da noi quindi adesso le sto vedendo tutte mettete anche da dove lo avete acquistato quindi la città fate swipe e continuiamo con il contest potresti venire proprio tu perché rischiare di vincere un pranzo a meno di un euro poi a casa nostra è veramente un'occasione da non perdere continuate a fare swipe iTunes mandate la mail mi raccomando con lo screen swipe e anche questa giornata è giunta al termine sono un po' stanco e domani sarà super perché porterò fuori i nonni ma anche un po' di miei amici anche Nicoletta Filippetto saranno delle giornate veramente veramente belle anche Andreoni ci sarà è bello stare con le persone che si amano fare le cose semplici alla fine sono le cose migliori vi ripeto che venerdì uscirà il video della canzone ragazzi cominciate a caricare un pochino perché è un video che è pazzesco fatto benissimo ci tengo particolarmente quindi lo vedrete venerdì e niente vi do la buonanotte e ci vediamo domani ragazzi mi raccomando sta pieno uno dimenticavo mi dice ripubblichi troppe storie con la canzone ragazzi cioè come posso non ripubblicare delle storie con la mia canzone fatta fatte da voi cioè sarebbe io lo vedo cioè anzi chiedo scusa se non riesco a pubblicarle tutte perché sono tantissime voi continuate soprattutto usate la fantasia fate i balletti cantatela andiamo a pelo tipo così fate quello che vi sentite ragazzi io adesso le guardo e poi le riposto un pochino per volta durante la giornata però non posso non postarle quindi non mi rompete i coglioni ecco ok ok grazie a tutti